Vicino a Pavia, cosa fai che la vinte? Non fa niente, è una donna ricca. E vai, come vuoi l'uomo ideale. Non lo sai? E non sei gay, ti scopri bene. Vabbè, vedi questa, eh? Vedi molto chiaro, poche storie, ragazzi. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Esatto, bene, bene. Vabbè, anche se ti pare, basta che sia bravo. Bene, bene, vedrai che lo troverai. Complimenti, complimenti. Oh, questa è una serata bella, bella. Allora, ragazzi, vorrei capire una cosa. Chi sarà il primo uomo che inviterà le donne a ballare questa sera? Eh, abbiamo finito di mangiare l'attipasto, vorrei capire...